Pronto Raffaterno? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie Raffaele, lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo visti i prodotti a risparmio energetico che c'è installato. Fuori tempo massimo, ancora una volta e senza fornire alcuna spiegazione a consiglieri e cittadini. E quanto sostengono i consiglieri e i vertici cittadini di Siamo Cavesi, la Fratellanza e Forza Italia i quali, in una nota, spiegano che lo scorso 30 aprile è scaduto il termine ultimo entro il quale il Consiglio Comunale avrebbe dovuto approvare il rendiconto della gestione, ovvero il bilancio consuntivo dell'anno 2022. Ad oggi però non sono state ancora convocate le commissioni consigliari che dovrebbero esaminarlo prima della presentazione in Consiglio. Come avviene ogni anno e come ad ogni scadenza di bilancio, la più importante nella vita amministrativa di un ente, l'amministrazione Servalli si fa trovare impreparata. Non riesce a rispettare un termine di legge e non riesce a far quadrare i conti e non ritiene nemmeno di dover spiegare ai consiglieri comunali e ai cittadini il motivo per il quale la legge non viene rispettata e quali siano i problemi nella redazione di un semplice consuntivo. Si legge in una nota congiunta. Il sindaco non manca mai di dispensare parole rassicuranti nei suoi discorsi, ma intanto le cose vanno, come sempre, alla deriva. E questo è tanto più grave se si considera che il comune di Cava è in piano di riequilibrio e quindi è un osservato speciale. Dovrebbe dimostrare di essere in grado di tenere i conti in ordine se non vuole andare in dissesto, anche perché il recente decreto legge numero 13 del 2023 sanziona i comuni che non approvano i rendiconti nei tempi prefissati. Secondo i consiglieri, l'attuale maggioranza politica continua a giocare con il fuoco e con le tasche dei cittadini. È importante che tutti i consiglieri comunali e con loro tutti i cittadini siano messi in grado di sapere qual è la situazione economica e finanziaria del comune, sottolinano i consiglieri della Fratellanza Siamo Cavesi e Forza Italia.